Ogni gruppo. La società femminile è più evoluta di quella maschile, DVB. All'aeroporto, infatti, il gruppo si divise come ci era stato annunciato in tanti altri piccoli gruppi diretti nei vari villaggi del paese e ogni gruppo fu preso sotto la guida di una persona del villaggio a cui era stato destinato. Il gruppo a cui partecipavo era composto da cinque persone, Bianca, un'insegnante di lingue di Napoli, Carolina, un'ex monaca di clausura di Roma, Don Antonio, un corpulento parroco di Viterbo, Francesco, un giovane studente di circa venti anni di Viterbo, e la sottoscritta. Noi eravamo destinati al villaggio di Niamata e la persona che venne ad accogliere il nostro gruppo era Antonia Locatelli, una missionaria laica di origini bergamasche, una persona davvero eccezionale e tra le più coraggiose che io abbia mai conosciuto. Ora purtroppo non c'è più, travolta dalla violenza e crudeltà dell'ultima guerra civile in Ruanda, ma vi parlerò ancora di lei. Commenti Nei viaggi organizzati spesso si stringono amicizie che durano solo per la durata del viaggio. Questo accade perché non sono amicizie ma conoscenze in cui il sentire non ha il tempo di nascere. Ogni gruppo è un'aggregazione di individui che hanno affinità vibratorie. Questo è il modo di manifestarsi dell'unità spirito che tutti comprende. Lo spirito si specializza in unioni di individui selezionati dai loro codici, cioè dalle loro modalità vibratorie, che a loro volta sono emesse e controllate dagli archetipi. Ci scosiamo con il lettore per l'uso di questi termini, ma essi non hanno equivalenti validi nel linguaggio comune. La cronaca ci ha poi informato che Antonia Locatelli è stata uccisa in Ruanda durante una guerra tra le etnie Tutsi e Utu.